Un altro colpo e siamo morti! 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 Autore dei sorrisi 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 So che non volevi uccidere Amy Cole Che le tue intenzioni erano buone Non ti tratterò più male Le cose sono state difficili anche per me Voglio che torniamo insieme Come prima Ultimi sviluppi call Starebbe per scoppiare uno scontro su larga scala tra i poliziotti nel dedalo e gli spazzini Vedi cosa puoi fare Non ti credo call Stai tornando da lei Lei non è un amante Non con me E se è tutto ciò che può arrivarti Io posso darti piacere Grazie 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 a tutti. I resistenti del 43esimo distretto hanno lanciato un'offensiva contro gli spazzini. So che proveranno ad arrestare Alden. Bene. Quello psicopatico merita la galera. La battaglia è già iniziata, perciò sbrigati. La tua priorità è assicurarti che Alden venga catturato. Una volta arrestato, invierò una squadra di recupero. La battaglia è iniziata. Alden, fermo! Sei in arresto! Alden non mi sfuggerà. Vado a prenderlo. Non fartelo scappare. Potrebbe essere l'unica occasione. Mi ha rubato il cibo! Uccidilo! Non dovrei mischiarmi. Alden è ancora in giro. E se scompare, Moia mi farà la pelle. Potrei fulminare quel tipo e liberarlo. O magari andarmene via e lasciarlo lì a marcire. Ma che cosa? Ma che cosa? La battaglia è iniziata. La battaglia è iniziata. La battaglia è iniziata. Grazie a tutti. 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 Perché costruisci quella cosa? Non lo so. Per quanto vedo non c'è combustibile all'interno, quindi non è un'arma esplosiva. Forse lo fa solo sentire meglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fuoco di fuoco di fuoco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti.